Allora, io interpreto Flavio, è un giovane ragazzo di 22-23 anni, avrà varie problematiche, sarà un personaggio forte, ma sicuramente il pubblico dovrebbe guardare la serie perché non c'è mai stata una serie che effettivamente ha parlato dello scopo del made in Italy, di cosa è stata la moda italiana nel mondo, sono argomenti nuovi, interessanti, che comunque hanno reso grande l'Italia nel mondo, soprattutto i ragazzi della metà di guardare questa serie, perché gli anni 70, ci dividono gli anni 70 50 anni, ma è un mondo completamente diverso da quello in cui viviamo ora, è un mondo che è totalmente diverso e secondo me è un ragazzo della mia età, se appunto non ha modo di conoscerlo non si riesce neanche ad immaginare, quindi è una serie che comunque dà un'antia visione di quello che erano appunto gli anni 70. Un saluto grandissimo a tutti i futuri fan di made in Italy, un saluto grandissimo a chi già mi segue, un bacione grandissimo, ciao! Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS